Puntano a confermare l'ottimo risultato della passata edizione gli organizzatori di Sport Expo, la manifestazione sportiva dedicata ai ragazzini dai 6 ai 14 anni, che propone tutta una serie di discipline sportive tramite la partecipazione di diverse federazioni e società, che richiamano ogni anno sempre più partecipanti. Nel 2015 sono stati ben 60.000, un successo che per il Comune di Verona, tra i principali promotori, dice la bontà di un investimento fatto per e con i ragazzi e le loro famiglie. Diciamo bene la manifestazione, quello che conta è che ci smengono un sacco di ragazzini, di meglio non si può chiedere? Sì, specialmente quando le iniziative sportive sono dedicate ai ragazzi, ai giovani dai 6 ai 14 anni, che avranno la possibilità in questi giorni prossimi di venire gratuitamente in fiera, di poter sperimentare le varie discipline sportive, di assaporare anche lo spirito del divertimento nello stare insieme ad altri coetanei e soprattutto accompagnati dalle famiglie, perché riteniamo che questa iniziativa sia dedicata ai giovani, ma soprattutto alle famiglie, che devono aiutare i giovani ad avvicinarsi al mondo sportivo, perché il movimento aiuta, specialmente nell'età così giovanile, anche a formare i ragazzi dal punto di vista umano. Tra le tante società presenti nel quartiere fieristico e che daranno modo ai ragazzi di provare le varie discipline sportive, non poteva mancare una delle più blasonate della città, il Chievo Calcio, che da sempre ha nel suo DNA l'attenzione allo sport come spazio educativo e formativo. Diciamo che oggi si parla della Juve, ma si potrebbe parlare anche di quello che è lo sport in generale, il calcio in generale, che spesso, soprattutto i genitori, caricano di tante valenze, tante responsabilità. Poi, chi ha la gestione di una società importante per quanto riguarda il Vigavaio, come il Chievo, deve insegnare anche ai genitori e ai ragazzi che lo sport è un'altra cosa. Penso che la famiglia Campedelli e la proprietà abbia dimostrato in questi anni la trasmissione proprio di questi valori. Lo sport è un veicolo importante per le famiglie, un veicolo importante per i ragazzi. I ragazzi devono fare sport, indipendente dalla nostra disciplina che è il calcio, e quindi cercare determinati valori, determinati risultati proprio all'interno del contenitore sport è importantissimo. Partner importante di Expo fin dal suo esordio dieci anni fa, gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie dell'Ateneo Veronese. Come Università di Verona portiamo oltre 250 ragazzi, studenti, studenti che diventeranno presumibilmente dei formatori nel futuro, sia quelli di Scienze Motorie, sia quelli di Scienze della Formazione Primaria, perché ci saranno anche 2.000 bambini, oltre 2.000 bambini, delle scuole primarie. Quindi l'idea non è solo ed esclusivamente quella dello sport, ma quella dell'attività fisica per il benessere, anche attraverso lo sport. Sport Expo ospita anche discipline di nicchia, kayak, kite, danza sportiva, rampicata sportiva, ok su prato, kendo e molti altri. O investiamo come società civile su questi ragazzini, anche a livello culturale, se no il futuro è un po' grigio. Io direi che comunque Verona a questo punto di vista non ha nulla da rimprovararsi, perché davvero le associazioni sportive sono tantissime, le famiglie si stanno davvero dimostrando molto sensibili al mondo sportivo, per cui io credo che tutti insieme, dalle istituzioni agli operatori del mondo dello sport, ai volontari, che sono veramente tantissimi che si danno da fare in questo campo, dobbiamo stringerci per insieme creare il più bel progetto sociale che ci possa essere, che è quello di avvicinare i ragazzini allo sport.